Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici! Oggi abbiamo qualcosa di non nuovo, ma nuovo. Perché? Da Toys c'è anche un settore, sia vicino alle macchinine, sia in base al Toys di riferimento che avete, dove ci sono delle offerte. Truly Trace! Perché non sono giocattoli recentissimi e quindi vanno in sconto. Però, per chi non li ha avuti e li voleva, sono nuovi e quindi sono belli. Abbiamo visto questi Trulli Tales. Io a volte guardo il cartone e lei era la mia preferita. E allora abbiamo detto compriamolo. Veramente costava tipo 3 euro, 4 euro, una cosa proprio piccola piccola per un bel set. Vediamo di che cosa si tratta, anche se si vede da fuori. C'è l'immagine di lei che terrò per metterla, non so dove. A staccarla sul diario da qualche parte. Ma che cosa sono? Fatine? No, sono dei bambini, dei ragazzini, che hanno dei poteri. Ah, c'è anche il piedistello, non l'avevo vista. Maghetti. Sì, dei maghetti. Ma devo dire che il playset, eh? Manca la stellina. Ah no, probabilmente si infila quello che non lì nella testa. Ah, non lo sapevo, non me l'aspettavo. Vediamolo un po', vedete? Il personaggio ha la paletta. Sono dei maghetti, che si incastrano nel cappello e diventa la stellina. Che ci sono queste puntate, c'è un cattivo, che è quello che si è visto nelle patatine. Quando abbiamo aperto le patatine c'erano i trafferelli. Ecco, abbiamo provato il trafferello del cattivo. Quello è il cattivo, che vuole prendere il libro magico delle ricette. Perché sono delle ricette e loro devono salvarlo. Ma è impressionante quanto sono particolareggiati gli accessori. Qua abbiamo una pentola, è vero. Poi abbiamo una bibita con cannuccia. Poi, fai vedere tu, qui, aspetta che ho le mani troppo grandi, io non riesco. Ecco, che io la sto incastrando nel piedistallo. Ecco, sono delle brioche, dei mini croissants. E questi sono gli attrezzi da cucina, faili vedere. Che non sono tutti uniti come a volte. No, sono fatti singolarmente, sono piccolissimi. E si possono attaccare in mano. Il mattarello. Sì. Aspetta, che fai vedere che cos'è. È un cucchiaino. Poi, questo non ho idea di che cosa sia. Non me lo ricordo neanche io. Vabbè. E poi una palletta per girare, per esempio, le frittele. E poi c'è questo set da cucina. È veramente... E può cucinare veramente. Particolareggiato come set. Dicevo, se non sbaglio, il personaggio singolo era venduto a 2 euro. 2 euro e 40. E questo playset era venduto a 4. Quindi, una bella idea regalo. Comunque, chi segue il cartone, sicuramente... È un bel pensiero. E spendendo anche poco. Arrivo. Guarda quanti pezzi ci sono all'interno. Ma poi i croissant si possono mettere anche qua, se si vuole. Ci abbassiamo ancora un po'. E andiamo a vedere. Sì, sì, sì. Vedo, spostiamo tutti i catorci qua. Qua si mette la pentola. Qua questo. Mettevo il personaggio davanti. Arriva. Cerco di farci stare tutto. Aspetta che le tolgo. Sei incastrata? Anche a me è successo prima, aspetta. E dietro, non lo vedete subito, però... No, in realtà si vede che c'è il piedistallo, però a me si è staccato ed è andato dietro il personaggio. Arrivo. Con anche il piedistallo. E sta in piedi. E potete fare un sacco di storie. Assolutamente sì. Bellissimo. Bel prodotto, vero? Sì. E quindi adesso cosa facciamo? Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.